Sono migliaia i tifosi e le tifose, soprattutto di Fede Ferrari, che hanno raggiunto Imola per seguire le monoposto durante la tre giorni del Gran Premio del Made in Italy. Non mancano anche delegazioni provenienti da ogni parte del mondo. La stragrande maggioranza, però, con magliette, cappelli e zaini, sostengono e sosterrando il cavallino rampante fino alla bandiera a scacchi. Noi veniamo dalla provincia di Latina, da Procedi. Secondo me è da provare. Nell'arco della vita venire a vedere la Ferrari. Adesso che diciamo che l'Eclerc è molto veloce, secondo me Calvino è molto meglio rispetto alla televisione. Noi siamo sardi, però viviamo in Germania. Una volta che vediamo una gara di Formula 1, in generale, era un piccolo desiderio. Sì, esatto. Abbiamo preso il biglietto solo per domani, purtroppo, però... Siamo contenti. Esatto. Imola è un grande ritorno, sempre vista da bambino in tv e adesso ritornare dal vivo, insomma... Quest'anno biglietti è una fatica bestiale e quindi ci accontentiamo anche solo di essere qua. Siamo già, diciamo, nella zona, ecco, direttamente nella zona della Ferrari per tifare ovviamente la Ferrari. Trento, per noi sì, è la prima volta che veniamo. Siamo venuti oggi, però il biglietto ce l'abbiamo per domani. Però, insomma, siamo venuti in giorno prima così, per vedere qualcosa. Forza Ferrari, sempre.